Ciao, oggi proviamo a realizzare un progetto di termometro ambientale con un sensore DHT22, connesso al microcontrollore SP8266, in modo da trasmettere immediatamente la misura a un server web tramite Wi-Fi. Ciao, questo progetto deriva da una improvvisa richiesta della mia azienda, ovvero misurare la temperatura nelle varie stanze dell'edificio in modo da controllare l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento o climatizzazione, visti i notevoli aumenti recenti del costo dell'energia necessaria per far funzionare questi impianti. La richiesta fortunatamente è giunta appena finita la preparazione del primo video sull'ESP826601, per cui ne approfittiamo e continuiamo a parlare di questo microcontrollore e di questa scheda. Avevamo già costruito con Arduino un termometro che registra le misurazioni fatte con un sensore DS18B20 e una scheda microSD. Questo va benissimo quando la sonda viene usata in posto isolato e i dati possono essere analizzati in seguito con calma. Se invece i dati devono essere verificati sia in tempo reale sia come evoluzione delle ultime ore, e nel posto da controllare la rete Wi-Fi copre perfettamente, la scheda ESP826601 può dare maggiori soddisfazioni, in quanto i dati sarebbero trasmessi immediatamente al server web che rende disponibili a browser su PC o cellulari. Per realizzare il tutto sono sufficienti una scheda ESP826601, una sonda DHT22 e un'alimentazione a 3,3 Volt. Usiamo l'adattatore USB sia per la programmazione sia per fare i primi test e in seguito come semplice alimentatore. L'adattatore FTDI, infatti, va benissimo per i primi esperimenti e come programmatore di questa scheda, ma può erogare pochissima corrente di alimentazione. In pratica è sufficiente per accendere un LED o fare una scansione Wi-Fi, ma se occorre trasmettere usando il Wi-Fi, la corrente fornita dall'FTDI all'ESP8266 è troppo poca. Inoltre, oggi è abbastanza facile trovare una presa USB usata anche per la sola ricarica di dispositivi portatili, e alcuni computer mantengono alimentata qualche porta USB anche se sono spenti. Per i primi esperimenti, questa schedina può quindi diventare un semplice buon alimentatore a 3,3 Volt, sufficiente per gestire bene un piccolo circuito basato sull'SP8266. Si può poi completare il progetto aggiungendo un piccolo display OLED che visualizzi la temperatura misurata e l'indirizzo IP Wi-Fi. Visto che se ci sono molti sensori presenti nella stessa rete, l'indirizzo IP potrebbe essere il modo più semplice per identificarli. Mostrando i dati letti dal sensore e l'orario dell'ultima trasmissione, si può anche verificare facilmente che tutto il sistema stia funzionando correttamente. Il grosso problema della scheda SP826601 è la presenza di pochi pin. Ci sono solo due pin per l'utilizzo generico, e all'accensione devono essere forzate a livello logico alto. Ci sono poi altri due pin per la comunicazione seriale, ma se non viene usata, questi pin si potrebbero riciclare per altri utilizzi. Nonostante queste limitazioni, c'è però una considerazione interessante da fare. Il bar C2C e parecchi sensori lavorano con una resistenza di pull-up nei pin di trasmissione dati, per cui il circuito diventa abbastanza facile da fare. Cominciamo a fare delle prove con il sensore di temperatura DHT22. Prepariamo il circuito, colleghiamo la scheda con il microcontrollore nella breadboard, e prepariamo vicino un'adattatura USB. Nel adattatore colleghiamo i pin di alimentazione alla breadboard e al microcontrollore. Colleghiamo anche i pin della seriale. Il pin CHPD va collegato ai 3,3V. Gli altri tre pin, ovvero Reset, GPIO0 e GPIO2, li colleghiamo a tre resistenze di pull-up da 10.000. Inseriamo nella breadboard anche il sensore DHT22. Colleghiamo i due pin di alimentazione e colleghiamo i pin dati al pin GPIO2 del micro-SP8266. Come già detto, la documentazione nel web è poca e spesso fa riferimento a librerie disseminate in Internet e che col tempo sono diventate incompatibili con quelle distribuite insieme all'IDE di Arduino. Vediamo quindi quali librerie possono funzionare bene e con poca fatica. Questi esperimenti li stiamo facendo a fine novembre 2022. Speriamo che queste informazioni possono rimanere valide a lungo. Passiamo all'ambiente di programmazione. Apriamo il gestore Librerie, cerchiamo la libreria DHTESP e la installiamo. Apriamo l'esempio DHTESP8266. Questo sketch legge la misura di temperatura e umidità fatta dal sensore e la invia ogni due secondi sulla seriale, insieme al valore calcolato dell'indice di calore. I comandi sono molto simili a quelli usati con la libreria di Arduino, quindi è facile capire le differenze e utilizzare questa libreria per i propri progetti. Questo esempio però fa riferimento al PIN 17, quindi all'interno della funzione SETUP, quando viene chiamata la funzione DHT SETUP, occorre modificare il riferimento del PIN con il numero 2. Controlliamo di aver impostato l'ambiente di sviluppo per compilare e caricare su ESP8266 e quindi procediamo al caricamento dello sketch, ma prima mettiamo a massa i PIN RESET e GPIO0. Per essere sicuri che il microcontrollore sia in modalità caricamento sketch, possiamo scollegare e ricollegare il PIN positivo di alimentazione. Ci prepariamo a scollegare il PIN RST da GND se il caricamento del codice non cominciasse da solo. Attiviamo il monitor seriale, puliamo il contenuto e controlliamo che la velocità impostata sia 115.200. Poi togliamo i collegamenti fatti verso GND per il caricamento e riavviamo il microcontrollore ESP8266 scollegando e ricollegando il PIN positivo di alimentazione. Vediamo adesso che ogni 2 secondi compare una riga con le misure ottenute dal sensore. Questo esempio è parecchio chiaro su come si usa questa libreria. Vengono chiamate molte funzioni di invio dati sulla seriale e il poco che resta sono le funzioni per inizializzare il sensore e ottenere le letture dei dati. Passiamo adesso al display SSD 1306. Questo componente è stato più impegnativo da far funzionare. In molti blog e tutorial si fa riferimento a svariate librerie da scaricare e installare a mano, ma che poi non si trovano o hanno subito modifiche incompatibili con le altre librerie di sistema già inserite nell'ambiente di sviluppo. Dopo qualche ora di ricerca, ho trovato la libreria ESP8266 e ESP32 OLED Driver, tra quelle disponibili per l'installazione automatica. In molti tutorial si fa riferimento a vari pin per il basso I2C, ma con la scheda ESP826601 ci sono solo due pin disponibili liberamente. Apriamo l'esempio SSD 1306 Simple Demo e sostituiamo la variabile SDA con il valore 0 e la variabile SCL con il valore 2. Prepariamo i componenti sulla breadboard. Trolliamo il sensore DHT22. Postiamo il filo di GND e aggiungiamo il pin GPIO 0. Inseriamo il display OLED. Prepariamo il caricamento dello sketch collegando a GND, pin Reset e GPIO 0. Diamo quindi il comando di compilare e caricare lo sketch. Riavviando la scheda ESP8266 in modalità normale, cioè con la sola resistenza di pull-up per RST e GPIO 0, possiamo vedere delle prove grafiche nel display OLED. Può essere interessante studiare questo sketch per conoscere le varie funzioni grafiche e trovare degli spunti per i propri progetti. Apriamo l'esempio SSD1306 Drawing Demo, modifichiamo i pin del bus i2C e carichiamo questo sketch. Anche in questo sketch ci sono degli effetti grafici interessanti, ma interessante è anche l'ultimo effetto che fa scorrere del testo. Intanto lo raddrizziamo attivando la funzione flip verticale all'interno della funzione setup e ricarichiamo lo sketch. Adesso le scritte sono leggibili più comodamente. La funzione è abbastanza semplice e potrebbe servire da spunto per un terminale che visualizza i messaggi e che automaticamente scrono verso l'alto. Infatti, se vogliamo gestire con la stessa scheda SP826601 sia il display sia il sensore di temperatura, occorre rinunciare alla seriale in modo da avere tutti e quattro i pin GPIO disponibili. I due pin TX ed RX usati per la seriale si possono usare per altre attività facendo riferimento a GPIO1 e GPIO3. Quindi, non potendo più avere a disposizione la seriale, occorre trovare il modo di poter vedere dei messaggi che possono indicare se l'apparecchio sta funzionando bene o quale problema viene incontrato. Con il meccanismo del log buffer si può facilmente sostituire le funzioni serial.print con display.print e altre pochissime e facili aggiunte. Anche l'esempio clock da EMO è interessante, ma non li guarderemo tutti. Si possono collegare anche due display OLED. Basta usare i pin separati e costruire un basso i 2C per ogni display. Molti altri esempi sono relativi all'uso della connettività Wi-Fi del chip SP8266. L'esempio Wi-Fi Client, dentro la cartella SP8266 Wi-Fi, esegue una connessione TCP ad un servizio internet ogni 5 minuti e invia sulla seriale quanto ricevuto dal server. Probabilmente è lo sketch più facile da capire se si sa cos'è una connessione TCP-P. Altri esempi eseguono connessione di rete come client o come server, sia per servizi HTTP ma anche altri, ad esempio DNS o NTP. Questi chip possono anche comunicare con HTTPS. Ovviamente, per la gestione del protocollo SSL occorre avere l'orologio sincronizzato a colore esatta, cosa che può recuperare lo stesso chip ESP8266 scrivendo qualche riga in più di codice. Gli esempi ci sono, ma per spiegarli occorrerà fare qualche video apposito. Con questa schedina si può quindi collegare sensori, relai, display o motore della rete internet e poterli facilmente controllare a distanza. Prima di parlare di Wi-Fi, occorre parlare anche dei principali protocolli di internet, in modo da sapere programmare le schede ESP8266 avendo pronto anche una piattaforma che sappia dialogare con queste schede. I primi video sul TCP IP sono già in preparazione e saranno pubblicati a gennaio 2023. Finora è stato preparato questo prototipo usando una piccola scheda 1000 fori. Il PCB è già stato progettato e siamo in attesa della consegna. Poi basta solo costruirci attorno un piccolo contenitore in plastica. Se questo video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale e condividetelo. E se avete suggerimenti scrivetevi nei commenti cercheremo di rispondere il prima possibile. Al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao!